Il Genoa soffre nel match contro il Pescara ma all'alba del secondo tempo passa in vantaggio con il Ciolito. Giovanni Simeone, primo centro in Serie A per il Figlio d'Arte. L'esultanza di Marassi poi si complica la partita per il Genoa che resta in nove nel secondo tempo. Lo slalom di Zampano e il tocco sotto misura di Reimanai fruttano al Pescara. Il gol dell'1-1.